Impossibile, niente da fare per il portiere del Siena, siamo al secondo tempo, c'è il cross al centro, interviene Osvaldo di testa in splendida solitudine. Ed è il 2-0, solo nel finale il Siena riesce a trovare le energie per il pareggio, per il gol della bandiera, scusate, Maccarone in profondità, grandissimo colpo di testa. Di Calaio, che va a centrare l'angelo dove il portiere Viviano non può arrivare, a Catania il piattone sinistro di Mantovani, poi Mascara su calcio di rigore. Gol del pareggio che rivediamo, gran tiro che il portiere Sorrentino aveva intuito. Poi, Marcolini, che aveva sbagliato il calcio di rigore, del possibile 2-0, trova un gol fantastico. Il pareggio del pareggio è meglio giocarci in casa che non in fornita. La tua profezia si è avverata perfettamente. Qui siamo a Genova, dove la squadra rosso-blu passa in vantaggio con questo bellissimo gol di Palladino. Forse avrebbe potuto anche tentare la battuta di destro, ma sicuramente... Avrebbe potuto fare tutto, ma quello che ha fatto l'ha fatto splendidamente. E questo è il temporaneo pareggio di Marchionni, appena entrato. Giocatore utilissimo, Marchionni, a sorpresa, Mesto. Sigla il gol del 2-1 che ridà la vittoria al Genova. Mesto, Mesto. Juventus, la cinquina, comincia con questa deviazione su assist fortunoso di Sissoko, con una parte del corpo che non possiamo nominare, fornisce il pallone ad Amauri. Poi Amauri, scatenato, mette al centro questo assist perfetto per Chiellini che è sempre lì. Il 3-0 sul filo del fuorigioco, parte la formica atomica e il pallone per Mauro Germán Camoranesi. Giovinco, passaggio calibrato, altrettanto perfetto il piatto destro. E poi Amauri, di testa, deviazione, voluta, cercata. Pallone schiacciato verso l'angolo dove Castelazzi non fa nemmeno in tempo ad arrivare. Poi il gol di Pazzini, altrettanto bello, di testa. Ruba il tempo a Cannavaro e sigla il gol, l'unico gol della Sampdoria di questa sera. E poi c'è Treseguet, anche in questo caso. Colpo di testa, pallone calibratissimo. Il gol del Cagliari con la pesante complicità di Muslera. Va bene che il pallone aveva un effetto strano a uscire. A girare. Il Muslera di quest'anno non c'era più abituato a fare degli errori. E questo è il gol che vi dovevamo. È stato a lungo dubbio perché il colpo di testa è di Miglioni con un difensore che non siamo abituati a vedere da quelle parti. Ma come potete vedere c'è la pesante responsabilità di Consigli, portiere dell'Atalanta. Qui siamo a Napoli-Milan in zaghi. In apertura il sinistro al volo senza pietà verso De Santis. Poi azione con ben tre assist. Alla fine Pato si trova solo davanti a De Santis. e lo batte con questo tiro estremamente preciso. Poi la riscossa del Napoli con questo fantastico sinistro di Cigliarini. Che spot oggi per il calcio italiano. E qui proprio al 95esimo maggio mette al centro questo pallone. German Dennis va a trovare un angolo che fa esplodere lo stadio San Paolo. di entusiasmo. Il Parma-Boginov. Guardate un po'. Una bomba di sinistro che va a togliere le ragnatele nel set della porta di Gillet. Da apprezzare anche da questa angolazione la potenza e la precisione del tiro di Boginov. Poi Paloschi controllo. Si gira e trova un tiro che beffa il portiere. Ma forse c'è la deviazione di un difensore. L'Udinese in vantaggio con Floro Flores di testa. Non è uno specialista dei colpi di testa ma quando viene lasciato così solo non si fa certo pregare. De Rossi per il temporaneo pareggio. Il capitano raccoglie un colpo di testa deviato dal portiere. Poi ancora Floro Flores. La difesa forse non aveva capito che andava controllato. Con la giura attenzione Floro Flores è il giocatore.